Sì, strada, perché questa mattina tre bombe sono state messe davanti una scuola superiore e una ragazza di appena 16 anni ha perso la vita. I giornali fanno grande confusione, ma c'è un mandante unico e si chiama mafia. E' questo corteo, creato spontaneamente dai cittadini catanesi e per ricordare quello che è successo a Brindisi e per ribellarsi contro la mafia in tutte le sue forme. Lei era... Come se il filo è passato in piena torre, da queste dire che diciamo basta! Basta! Continuava ad alzare la voce, è inaccettabile che una comunità non si ribelli di fronte a chi colpisce il cuore del nostro paese. La scuola, quelle ragazze sono il cuore della nostra comunità e dobbiamo sentirci attaccati tutti e tutti! Chi pensa che quello che è successo a Brindisi non lo riguardi? Chi di noi pensa che la vita può continuare come sempre, che nulla cambia? Chi pensa che la ragazzina morta oggi, tanto non è nostra figlia, sta sbagliando. Io chiedo ai miei concittadini di svegliarsi e non rassegnarsi. Onoriamo quella ragazzina di 16 anni, onoriamola con un modo di ribellione. Ne ha diritto! Ne ha diritto! Non possiamo continuare a svolgere la nostra... Grazie! Grazie!